Ciao, io so che vi sto disturbando perché sicuramente avete un piccolo momento di relax. Benvenute su Olimpia Web TV innanzitutto e diteci il vostro nome, la città di provenienza, la vostra regione? Claudia da Sassari. Il tuo numero? 92. 92, quasi uno degli ultimi. Tu invece? Maria Grazia da Olbia, numero 102. Vi vedo con i faccini un po' stanchi, ma descrivetemi la giornata tipo di una miss. Sveglia alle 6, le 7, poi subito colazione, si parte immediatamente per quest'albergo, siamo partite subito qua e iniziamo con i parrucchieri, i truccatori, ci fanno belle insomma. E ma siete già belle comunque, ci vuole veramente ben poco. Oggi giornata dedicata a cosa? Alle foto praticamente, sì, principalmente alle foto, quindi in costume da bagno e in abito da sera anche. Le foto, com'è andata con il servizio fotografico? No, benissimo, ci diceva come metterci in posizione, no, tranquille. E beh, dovreste abituarvi, cosa vorreste fare oltre Miss Mondo Italia? Il mio sogno è quello di diventare una showgirl. Oh, e cosa fai per diventare una showgirl? Canti, balli, reciti, impari le lingue straniere? So ballare, sfilo, sì. Ho fatto una scuola anche di recitazione. E tu invece cosa vorresti fare? Beh, io faccio già la ballerina e danza contemporanea, quindi comunque continuare con questo e poi mi piace anche fare la fotomodella. Bene, domani so che ci sarà un idromaratona, come andrà? Non lo so, noi proviamo, vediamo. Siete allenate? No, allenate no, però ce la metteremo tutta. Sì, dai, salutiamo gli amici di Olimpia Web TV. Ciao a tutti. Ciao. Questa è una conciatura particolare, becchiamo sia la signorina che la numero? 51. 51, lei tanto 51, io mi sposto un attimo di qua, lei invece che numero è? Nessuno. Nessuno? Come nessuno, scusi? Non ne ho. Non ne ha, invece lei sta acconciando, lei è la parrucchiera? Sì. Ma va? Qual è il suo nome? Mariangela. Mariangela, di dove è lei? Di Brindisi. Di Brindisi, mentre la signorina qui che ha detto, come si chiama? Sono delle Marche, Cristina. Cristina delle Marche, bene, per la precisione? Ancona. Ancora? Ancona. Chissà quante volte te lo dico. Allora, concorso Miss Mondo Italia per la prima, seconda, terza, quarta, quinta. Per quante volte l'hai fatto? È la prima? Questa è la prima. Eh beh, mi guarda con quella faccia, hai la domanda a te sto facendo. Collegavo il cervello. Quanti anni hai? 23. 23 anni, benissimo. Qual è il tuo hobby? Il mio hobby? Ballare. Ne ho tanti, mi piace fare un po' di tutto. Non ho un hobby che pratico sempre. Tu sei una persona che a volte dimentica alcune cose? No, io non a volte, io dimentico parecchio. Ho notato prima dalla porta, perché stavi per entrare. Senti, facciamo una pubblicità... Sono anche parecchio sbadata, quindi... Vabbè, vabbè, questo lo dici te e non lo dico io. Facciamo una campagna pubblicitaria contro il fumo. Eh no, fumo io. Appunto, facciamola. Ma lo sai che... Ragazze, non fumate, perché fa male alla pelle. Fa male alla pelle. Sì, e poi... Poi? La pelle... La pelle... Cioè, pelle in che senso? Rovina la pelle. Rovina la pelle. Sì, sì. Bene, dici qualcosa con il tuo dialetto. Con il tuo dialetto. Dici, per esempio, di non fumare in dialetto. Perché fa male alla salute. Raghe, non fumé perché fa male un bel po'. Ma questo mi sembra più barese, vero? Raghe, non fumé? Che fa male al berumbe? Più o meno. Va bene. Ci assomigliamo a tutto il mondo un paese. Ascolta, adesso ti stanno guardando in tutto il mondo, perché questa è una TV che va su web. Olimpia Web TV è fantastico. Adesso ci hai fatto una bella figura, eh? Bellissimo. Sappilo. Tutti quanti dovranno cliccare, vanno sul web Olimpia. E votare il numero... 51. Vabbè, ma non serve perché... Non si può. Ti guardano soltanto. Guardate. Va bene. Adesso dobbiamo dare la linea alla nostra collega che si trova dall'altra parte, non del mondo, ma della stanza. Si chiama Maria. Ok. La conosci? No. Ok, allora adesso tu dovrei dare solo la linea, vediamo un po' un attimino come te la caveresti. A presentare, va bene? Perché comunque tu sai benissimo che il concorso di bellezza uno lo fa non solo perché vuole sfilare, ma vuole partecipare ancora un po', vuole fare qualcosa di diverso. Certo. Ok, allora, tieni, questo è il microfono, io me ne vado. Presentati te, presenta Maria, fai tutto te. E adesso diamo la linea alla fantastica Maria che ci aspetta dall'altra ala della sala. Perché guardi di là, di guarda di là. Perché guardavo dove è. Vito, mi riprendo velocemente la linea e sono un po' indiscreta perché sto beccando qui una ragazza che sta risistemando l'abito. Prego, vieni, vieni con noi, vieni con noi che salutiamo insieme gli amici di Olimpia Web TV. Ditemi un attimo la vostra regione di provenienza, il vostro numero soprattutto perché quello sarà importante per votarvi è il vostro nome. Campania, numero 94. Il tuo nome? Antonella Lombardo. Antonella Caccioppoli, da Napoli, quindi Campania, numero 57. Anna Mendola, numero 90, sempre da Napoli. Susanna Mussi, numero 95, dalla Liguria. Marilu Bertolini, numero 91, dalla Toscana. Ragazzi, ma parliamo di argomenti scottanti, ma i vostri fidanzati cosa dicono? Voi siete qui e loro cosa fanno? Il mio è venuto indietro a me, sta qua con me, sta in albergo. Geloso? Diciamo. Diciamo di sì e poi poi il napoletano e il sangue viridionale non mente. E il tuo invece? Il mio studia, quindi è rimasto a casa, però è parecchio geloso. Il mio è contento, tranquillo, però se passo in finale mi raggiunge. E il papà? Il papà cosa dice? Il papà è emozionato, viene a vedere il due. Bene. Io invece sono single, quindi non c'è problema. E beh, in questi momenti forse è anche meglio essere un po' sole solette. Ragazzi, facciamo una cosa, ci seguono da tutta l'Italia e da tutto il mondo, perché stiamo andando in questo momento in onda sul web. E salutiamo gli amici di Olimpia Web TV. Al mio 3, 1, 2, 3, ciao! Ragazzi, mi date i numeri di chi non ha fatto la foto, né con il costume, né con l'abito da sera. Io nel frattempo vedo, vedo la sbircia. Sì, sì, sbircia. Solo i numeri, ragazzi. Responsabile? Miss. Oh. Un abito arduo. Certo. Allora, una alla volta, 50, 53. 53 non mangia? No. Tu? 61 mangia? 54. 56. Non mangia. Poi? Ah, ok. Man mano che me le dite potete andare, così lasciamo spazio alle altre. Preparatevi che andiamo via. E sì, così poi la intervistiamo. 67. Sì. 55. E poi voi le avete fatte, ragazze, tutto? Ma io non ho fatto. Tu non hai fatto foto né con il costume? No, no, è la professione. Ok. No, no, mi interessa chi non ha fatto le foto. Tu hai fatto tutto? Non ho fatto il vestito. Allora, mettiti il vestito che ti fai la foto. Oh, abbiamo, praticamente abbiamo beccato lei che stava dando delle, giustamente, in partiva degli ordini, io uso questa, purtroppo, questi termini perché, insomma, giustamente è un lavoro faticoso, quello del dietro le quinte, giusto? Abbastanza. Responsabile, praticamente, delle miss. Esatto. Tu le segui? Esatto, passo per passo, nel loro cammino, spero per loro che sarà il più lungo possibile, visto che domani siamo in fase prefinale. Quali sono, ecco, i timori delle ragazze, soprattutto, le paure? Beh, un po' di classiche insicurezze per quanto riguarda l'aspetto fisico, un po' di incertezze per quanto riguarda il passaggio giuria, quella è l'emozione più forte che hanno avuto finora. Bene. Io, intanto, ho il piacere di parlare con? Stefania. Stefania. Stefania, responsabile, naturalmente, delle missie del concorso Miss Mondo Italia, prendeva punti su cosa? Abbiamo fatto un riassunto del lavoro eseguito in mattinata, le ragazze stamattina sono state impegnate. Ecco, ci dica un attimino, velocemente, ci riassuma un po' la giornata delle ragazze. Beh, oggi è stata una giornata dedicata esclusivamente ai servizi fotografici e al fitting, quindi prove e abiti, semplicemente questo fino a stasera. Stasera seguiranno un corso di trucco e poi... Domani cosa li aspetta? Domani ci aspetta l'idromaratona, una novità di quest'anno. Ci dica un po' un attimino cos'è questa idromaratona, loro praticamente vanno in acqua? Esatto, è una competizione sportiva, loro entreranno in acqua, numerate e faranno una gara, una semplice gara, non so dirvi di più. Questo serve naturalmente per tenerle un po' un attimino ben preparate per poi eventuali altre cose che farete. Esatto, esatto, perché Miss Mondo non è un concorso che si concentra esclusivamente sulla bellezza, ma è a 360 gradi. Però le prove definitive cominceranno subito dopo la prefinale nazionale? Esatto, quando restringeremo il gruppo a 50, credo 52 finaliste. Ho visto che, ecco, finalmente abbiamo una persona con cui poter parlare, competente, quindi chiederle, quante ragazze sono? Ora 102. Quindi sono 102, qualcuna si è sentata? Credo di sì. Non conosco i dei tanti, però sì, 102. Da 102 passano? Quante ragazze passano? 52. 52, di cui già 22 sono vaderato? E' una lista regionale, sì. Quindi praticamente su 102, meno 22, rimangono 80, se la matematica non è un'opinione, quindi su 80, 30 praticamente dovrebbero passare. In bocca al lupo alle ragazze, alle 30, per la finale, in bocca al lupo anche a te. Crepi, grazie. Di dove sei? Di Muroleccese, qui di Lecce. Ma stai andando via proprio? No, 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 no. Tu invece di dove sei? Toscana. Toscana, per la precisione? Massa. Massa, Massa Garrara? Sì. Bene, allora, piatto prelibato di massa qual è? Tardelli a ragù. Tardelli a ragù, cosa sei, un giocatore? Cosa sono i tardelli, scusa? Tordelli. Ah, tu ordelli, tardelli. Mentre dalle tue parti? Vabbè, io sono di qui, di Lecce, quindi anche le orecchiette lecime di Rapa. Che numero c'avete? Dieci. Tu? Diciassette. Provenienza a Lecce, Massa. Bene, allora, sai che a Lecce purtroppo, ahimè, peccato. Lo so. Peccato, peccato. Massa invece dove si trova? Lo so che si trova in Toscana. Che campionato? Tu non ti intendi di calcio, no? No, della Mastese no. No, no. A pratiche lo sport? Sì, danza classica. Danza classica e moderna. Uh, che bello. Mentre tu? Degli hobby? Tanti anni ho fatto danza, poi anche nuoto. E poi comunque amo anche disegnare, faccio troppe cose, tantissime. Adesso dare un elenco, ci vuole tantissimo. Va bene ragazzi, siccome dobbiamo andare in pausa per qualche consiglio utile dalla regia, quindi pubblicità, eccetera, che se non ci fossero loro qui non saremmo nemmeno noi, noi dobbiamo dare la linea della regia per qualche consiglio utile, va bene? Lo facciamo voi, lo fate voi? Lo facciamo insieme? Ok, unitevi un po' di più e dite soltanto al mio tre pubblicità, ok? One, two, three. Pubblicità